Anzitutto devo dire che mi è piaciuto conoscere la Slovacchia anche come paese, come nazione. Lo immaginavo un po' così, ma veramente l'ho trovato molto bello, come una nazione che cresce, credo in tanti sensi, ma dal punto di vista salesiano per me è stato bellissimo trovarmi con le persone. Mi sono sentito veramente a casa, a casa con i miei confratelli salesiani, mi sono sentito a casa nella famiglia salesiana nei momenti diversi, mi sono sentito molto bene nell'Eucaristia che abbiamo celebrato, che era una vera celebrazione della fede con le famiglie, con i giovani, con la famiglia salesiana. Mi sono sentito veramente bene e ho visto una grande creatività nell'incontro con i giovani e con le famiglie giovani. In sintesi veramente è stata una visita, credo che molto umana anche, dico, perché è stata proporzionata, abbiamo avuto momenti di preghiera, di interiorità, di incontro, di saluto personale con salesiani, con tutta la famiglia salesiana, con i giovani. E torno veramente a Roma con una grande serenità e allo stesso tempo una grande giovia. Sì, l'ho detto parecchie volte, il mio sogno per voi come ispettoria salesiana, come famiglia salesiana qui nella Slovacchia, come famiglia religiosa che porta nel cuore Gesù e ai giovani. Il mio sogno è questo, di vivere una grande comunione, una grande unità tra di noi. Non dico uniformità, dico veramente unità e comunione. Il mio grande desiderio è di vedere tutta la nostra famiglia salesiana, però parlo per esempio dei salesiani, vedere i miei confratelli salesiani veramente come uomini consacrati felici, e che questa felicità si possa trasmettere nella vita, nel quotidiano. Il mio sogno e il mio desiderio è anzitutto un sogno e desiderio di optimismo e una grande speranza, perché credo che la speranza vissuta nella fede è veramente frutto dello Spirito, viene di Dio. Tutto l'altro sono composizioni nostre, sono programmi nostri, ma non porta nessun frutto di grande forza e sostenibilità. Questo sarebbe il mio sogno per voi. E veramente sono convinto che la Ispettoria si trova con questa capacità, vedendo il movimento giovanile, vedendo il movimento delle famiglie, vedendo questa realtà di famiglia salesiana che ha una bella freschezza, non c'è nessun'altra possibilità che la speranza. E non possiamo permettere che i nostri pensieri, la nostra maniera di immaginare il futuro e lamentarsi di come è stato il passato, possa bloccare un futuro pieno di vita. Ricordo, come ricordo bello, la bellezza di tutti gli incontri personali. Per esempio, la bellezza dell'incontro personale con i miei confratelli salesiani, la bellezza dell'incontro personale con le figlie di Maria Auxiliatrice, la bellezza dell'incontro personale con le volontarie di Don Bosco, la gioia di vedere e ricevere la promessa di questi 32 salesiani cooperatori e cooperatrici, la bellezza dell'incontro personale con i giovani in un abbraccio, in una fotografia, perché credo che questo rimane nel pensiero, rimane veramente nello sguardo e rimane nel cuore. Porto con me un sentimento, allo stesso tempo, di una grande serenità. È stata una visita molto bella, anche perché serena, profonda e credo che aspettata. E' un'opera molto comune. Devo dire che non ho messo tante energie perché dopo domani devo andare a Sri Lanka, però mi piace, anzitutto perché le lingue sono i mezzi non per allontanarci ma per avvicinarci. Ma devo dirvi una cosa, andando per il mondo ho scoperto che c'è un linguaggio che è universale, è questo, il linguaggio degli occhi, il linguaggio del sorriso, del volto che guarda con serenità e che già dall'inizio ti riceve. In questo senso io ho trovato molta dolcezza in tanti volti, in tanti saluti e anche porto questo nel mio cuore. Sono veramente molto felice di questa visita.